Allora mister, una bella riuscita di questa manifestazione. Sì, è bellissima, l'anno scorso c'è stata la Virtus, questa è una giornata bambini dietro le sbarre per i bambini che purtroppo non hanno la possibilità di vedere i genitori la domenica sul campo. Noi come società, come Virtus Castelfrentano abbiamo aderito con i nostri ragazzi, con la nostra rappresentanza per far capire anche ai nostri ragazzi quando sia importante i genitori, la loro presenza per quando si fa le attività sportive. Una giornata bella soprattutto per i detenuti, io lavoro anche in questo ambiente quindi vi posso garantire che è una cosa speciale per loro ospitare gente di fuori, genitori di fuori, ragazzi nostri, ragazzi che purtroppo così si rendono conto che cosa significa avere vicino un genitore. Sì, è il secondo anno che si aderisce a questa campagna bambini senza sbarre? Sì, perché questa è una cosa che ha aderito la Lega di Serie B, l'anno scorso c'è stata la Virtus, quest'anno la Virtus Lanciano purtroppo non c'è più e quindi noi abbiamo aderito come società sportiva Castelfrentano sperando in altre iniziative dove possiamo dare il nostro contributo da esterno per questi bambini che hanno la sfortuna di avere i detenuti, ok? Ok, grazie mister. Ecco, ecco i ragazzi. Goal! Bravo! Bravo!